La canzone interpretata con tutti i suoi doppi sensi, con tutti i suoi significati più intimi e nascosti, raccontata dall'autore stesso, cioè io, cui anche voce narrante. Oggi con una voce un po' raffreddata, ma comunque... Ciao e benvenuto, io mi chiamo Nicola Andreoni. Iniziamo. La prima frase del testo è già una frase hook, per cercare di mettere subito in chiaro lo stato d'animo. Quindi iniziamo con... Lontano da tutto, niente mec ne crei assi Lontano da tutto, niente mec ne che IFC. Magari in un primo momento lontano da, ci viene istintivo credere di immaginare lontano da casa, lontano da te, da lei, da lui. E va benissimo, ma possiamo sentirci liberi di fantasticare pensando a qualcosa di più psicologico. Tipo lontano dalla paura di essere giudicati o catalogati dagli altri con etichette per noi fastidiose. Lontani dalla paura di non essere all'altezza della situazione. Magari sì, anche lontano dalla felicità e lontano dalla tristezza. Ma fermi tutti, fermi tutti. Forse questa prima frase non è soltanto una frase hook, ma un vero e proprio rompicapo. Insomma, sto cercando di dirla ragazzi, è possibile essere lontani da casa. Ok, possiamo restare lontani da chi ci è antipatico, sì, e anche dal KFC, Burger King e McDonald's. Ma è umanamente possibile essere lontani da tutto, nel senso letterale del termine. Come ad esempio nel mio caso, quando io in cerca di ispirazione provo con tutto me stesso a perdermi. E spesso ci riesco con successo, mi allontano da quello che conosco, ok. Ma non è possibile per me allontanarmi totalmente da tutto. Perché spesso ho la mia chitarra a portata di mano, la mia auto, le mie ossa e anche le mie incertezze. Quindi ti domando, è possibile essere e restare lontani da tutto? Insomma, voglio dire ragazzi, con lontano da tutto, è compito di ognuno di noi qui riempire la frase e dare una sfumatura al tutto. Per me è una frase molto punk e liberatoria. Cominciare un concerto con una frase così parecchio evocativa, forse provocante, già al solo pensarci mi casa. Per poi chiudere la frase riportando il nostro focus a cose più terrene e concrete. Dicendo niente Meg né KFC, quindi le due catene americane di fast food. La frase 2 dice Potrei morire gridando e non essere sentito. Anche qui, come per la prima frase, ci sono almeno un paio di sfumature. Quella più letterale, ovvero immaginare di essere stati abbandonati ad esempio su un'isola deserta e gridare aiuto, fino a morire abbandonati da tutti e sentiti da nessuno. Oppure, un'altra probabile interpretazione può essere quando cerchi di dimostrare il tuo amore ad una persona e lei o non sente o si rifiuta di crederti. O magari si rifiuta anche solo di comprendere il tuo punto di vista. Perché forse non riesce a valorizzare i tuoi sacrifici per lei, ispirati da lei. E quindi sì, tu ami questa persona ma lei non se ne accorge nemmeno. E quindi gli dedichi Potrei morire gridando e non essere sentito. Questa frase potrebbe essere parafrasata più o meno così. Posso gridarti ti amo, potrei dimostrarti con i fatti tutto il mio amore per te, ma tu non mi ascolti, non mi vedi e nemmeno mi senti innamorato di te. In ogni modo questa seconda frase della strofa avrebbe gasato il mio stesso teenager facendomi venire voglia di scriverla sulle panchine al parco e inciderla nei banchi di legno della prima ragioneria. Potrei morire gridando e non essere sentito. Potrei morire gridando e non essere sentito. Niente meccanica EFC, lontano da tutto, è una canzone che ho iniziato a scrivere quando guidando in solitaria per le strade della Germania, in completa solitudine, eccezione fatta per la mia chitarra, mi succedeva di tanto in tanto di perdermi in posti meravigliosi. Perché quando viaggio mi piace sentirmi libero. Quindi se posso spengo la connessione dati, non uso internet e cerco di penetrare dentro all'esperienza, senza aspettative, se non quella di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Quindi sì, se l'obiettivo è raggiungere ad esempio Castle, mi piace la sera prima controllare la mappa e darmi dei riferimenti grossolani per poi raggiungerli seguendo i segnali stradali. Alcune volte ci riesco, altre volte no ed ecco che nascono i primi versi di questo testo. Una veloce, velocissima parentesi circa lo pseudonimo Nicky Hei. È semplicemente un modo per accorciare Nicola Andreoni, tipo Nick Andreoni e appunto Nicky Hei. Mi spiego meglio, Nicky è per abbreviare in modo musicale Nicola. Ad esempio le mie zie e la nonna mi chiamano più spesso Nicky che Nico, quasi sempre Nicky piuttosto che Nick. E poi analizzando Hei, che già al solo sentirlo sembra un saluto tipo Ciao Nicky? Hei Nicky? Sì ok ok, questo Hei spesso è associato in modo inconscio alla positività e all'azione, ma la cosa più ganza per me è che è anche il suono inglese della lettera A di Andreoni. Figo eh? Quindi se un americano leggesse Nicky ha appuntato, ha appuntato di Andreoni appunto, probabilmente la sua pronuncia sarà tipo Nicky Hei, ovvero Nicola Andreoni. E con questo ti auguro una splendida giornata. Con entusiasmo Nicola Andreoni. Alla prossima, ciao. Ciao.